Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Mancano una manciata di giorni all'annuncio dei nuovi palinsesti Mediaset, ossia di quelli che riguarderanno la stagione autunnale 2023. Eppure, come un fulmine a ciel sereno, abbia ricevuto una notizia che nessuno si aspettava. Barbara D'Urso non sarà più alla conduzione di pomeriggio 5. Ma come mai Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione del genere? La Miriesset l'ha ringraziata con due righe sintetiche per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Proprio tra le pagine di Repubblica apprendiamo che da mesi Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, avrebbe fatto capire di voler dare una svolta alla linea editoriale. Pier Silvio non sarebbe stato entusiasmato dai risultati in termini di telespettatori del GF VIP e l'Isola dei Famosi per cui sembra pronto ad una rivoluzione. Già dallo scorso autunno aveva accennato a dei cambiamenti, dicendo I programmi che mescolano Gossip, Politica, Cronaca Rosa e Nera non funzionano più. Sono il passato. Pomeriggio 5 rientra tra questi ma per il momento tutto è abbastanza aleatorio per cui presto dovremmo avere nuovi aggiornamenti.